Anna, oltre ad insegnare nel mondo della scuola, tu sei anche una pittrice. La tua passione in questo periodo sta crescendo? Sì, sicuramente, anche perché è un periodo particolare. Modi per esprimersi ne cerchiamo tanti. Io, in quanto artista, in effetti mi esprimo attraverso i colori, attraverso la mia arte. Questo è un periodo produttivo, anche perché stiamo di più a casa, quindi è normale. È vero che è un insegnamento, sono un docente, quindi mi prende molto tempo, perché è molto più lavorato stando in DAD. Poi abbiamo tante mansioni, però sì, sto lavorando, sto dipingendo varie cose, sì, vari progetti. Ecco, vari progetti. Qual è il tuo settore preferito? Allora, io in quanto artista, io ho fatto l'Accademia delle Arti in decorazione, quindi mi occupo di tanti materiali, ho una buona manualità, però in casa, diciamo, quello più immediato è la pittura, quindi sto dipingendo dei sottoboschi, eccetera. Questo è il genere che a me piace molto, naturalmente visto da me, e quindi sto realizzando dei pannelli, dei pannelli decorativi o dei quadri, come volete intenderli. Quindi in questo periodo di pandemia la pittura per te è uscire fuori dalla quotidianità, insomma, del dover stare dentro e guardi a un universo diverso, a un mondo diverso? Sì, sì, sicuramente. Io penso che sia necessario per ognuno di noi avere un proprio mondo. Io mi rifugio nel mio mondo, che è appunto fatto di colori e mi isolo un po'. È sempre stato così, in ogni circostanza. In questo periodo, che è particolarmente stressante, psicologicamente, insomma, ci sta ferendo un po' tutti, a me aiuta molto, aiuta molto, insomma, dedicarmi a quello che è la mia arte, appunto.